Perché il finale di Game of Thrones ha fatto tanto schifo? Perché non ci abbiamo capito niente? Beh, la verità è che Il Trono di Spade è una fanfiction fatta male della serie scritta da George Martin. Salve a tutti, io sono Georgia e questo è A Game of Talks, il canale che vuole divulgare la vera storia scritta da George Martin nelle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, saga dalla quale è stata appunto ispirata la serie del Trono di Spade. Quindi, se volete conoscere la vera storia, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. SIGLA! Oggi andiamo avanti con la lettura del primo libro della saga e leggiamo il primo capitolo di Sansa. In questo capitolo ci troviamo nelle terre dei fiumi e Sansa si troverà un po' a parlare con un po' di gente, vedremo sempre un po' il suo rapporto con Aria, già abbiamo visto dal punto di vista di Aria come vive il rapporto tra lei e sua sorella, adesso vediamo il punto di vista di Sansa. In più parleremo con Sandor, con Joffrey, parleremo anche con Cersei. Poi per chiudere il capitolo con la faida che c'è stata tra Joffrey e Aria che porterà appunto a Nymeria a mozzicare il braccio dell'agnoso principe dei Sette Regni. Quindi, cominciamo subito. Eddard Stark è lefto before dawn. Settamordain informi Sansa as they broke their fast. The king sent for him. Another hunt, I do believe. There are still wild aurochs in this land, I am told. I've never seen an aurochs. Cazzo el aurochs. Ah, ok. I've never seen an aurochs, Sansa said, feeding a piece of bacon to Lady under the table. The dark wolf took it from her hand, as delicate as a queen. Settamordain sniffed in disapproval. A noble lady does not feed dogs at their table, as she said, breaking off another piece of comb and letting the honey drip down into the bread. She's not a dog, she's a direwolf. Sansa pointed out as Lady licked her fingers with a rough tongue. Anyway, father said we could keep them with us if we want. Decepta was not appeased. You're a good girl, Sansa, but I do vow when it comes to that creature you're as willful as your sister Aria. She's cold. Where is Aria this morning? Si apre il capitolo con Sansa che sta facendo colazione con Settamordain. La Settamordain ci fa sapere che Ned è andato con il re un'altra volta di mattina e pensa che sia andato a caccia. Perché a quanto pare c'erano delle specie dei bisonti, gli archons, aurochs, sono tipo delle specie di bisonti, gli uro, comunque vi metto poi la foto qui. E infatti Sansa dice non li ho mai visti questi animali qui. E intanto appunto mentre mangia sta dando da mangiare anche a Lady. Al che c'è la Settamordain che ruote agli occhi perché dice una Lady non dovrebbe dar da mangiare ai cani mentre sta al tavolo. E Sansa allora le risponde ma Lady non è un cane, è un metalupo. E mi piaceva molto perché prima Sansa stava dicendo che quando appunto stava dando da mangiare a Lady, quando Lady prende dalle sue mani il cibo, è delicatissima come una regina, dice, quindi proprio per farci capire questa delicatezza di Lady che è molto simile appunto alla delicatezza anche che ha Sansa. La Septa ovviamente non è molto, non approva tanto, anche se pure Sansa le dice guarda che comunque cioè anche il nostro padre ha detto che se vogliamo ci possiamo tenere i metalupi quindi io se me la voglio portare al tavolo lo faccio. E al che appunto Settamordain ci dice che diciamo Sansa di solito appunto è molto delicata è molto proprio Lady-like, proprio la perfetta Lady Sansa è, fa tutto quello che è richiesto a lei è bravissima da questo punto di vista ma quando si tratta poi del suo metalupo in realtà dice diventi testona come aria quindi per farci vedere comunque che la Tempra è quella nel senso come dicevo anche nello scorso capitolo ogni, no come dico sempre ogni famiglia comunque ha i suoi tratti e gli Stark sanno essere molto capoccioni diciamo quindi se vogliono fare una cosa loro la fanno insomma a prescindere dal dal carattere poi singolo che hanno ma sono abbastanza testoni ok e la Septa dice a proposito che stiamo a parlare di Aria dov'è Aria? c'è la Septa appunto che chiede dov'è Aria e Sansa dice ha detto che non aveva fame anche se sospetta che tanto probabilmente si era svegliata presto Aria ed era andata a mangiare qualcosa già nelle cucine dove stanno poi le persone che cucinano e sicuramente si era fatta dare qualcosa infatti sappiamo mi pare già ne abbiamo parlato in qualche altro capitolo che Aria e Bran sono quelli che più di tutti passano il tempo con i commoners di grande inverno quindi per loro è molto normale in realtà ma in realtà anche gli altri perché abbiamo visto nel secondo capitolo quello di Kathleen che c'erano Sansa Aria Riccone e Bran che stavano mangiando nelle cucine parlavano dei nomi dei metalupi quindi comunque è molto normale per gli Stark passare il tempo con la servitù ma ovviamente Sansa da questo punto di vista diciamo un po' questa cosa qui c'è la fama meno degli altri perché Sansa ricordiamo si diciamo è un po' più fa molto più caso a le gerarchie diciamo che Sansa è quella che diciamo più di tutti i suoi fratelli diciamo nello status quo ci si trova nel senso lo capisce lo comprende e ci si sa aggiostrare cosa che ovviamente adesso un po' di meno perché Sansa è caratterizzata da una grande innocenza ma è l'unica effettivamente tra tutti i suoi fratelli soprattutto se la prendiamo paragonata ad Aria che poteva sopravvivere a quello che poi l'aspetterà negli altri libri proprio perché lei capisce questi giochi che ci sono intorno a lei o comunque anche se ora non li capisce è più pronta a capirli quindi a osservare anche perché vedremo che Sansa viene considerata molto stupida in realtà all'inizio ma perché è molto molto ingenua ma in realtà Sansa è una persona che osserva tantissimo e lo fa da sempre poi vedremo comunque però è una ragazza che in realtà osserva è un po' bagliassata nel senso si mette un po' gli occhiali delle canzoni dove tutto è bello e tutto va a finire bene ovviamente essendo piccola ancora non è proprio pronta a stare attenta a quello che la circonda ma tanto poi adesso vediamo tutto allora a questo punto c'è la 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 guarda però dille che si deve vestire bene ad aria magari falle mettere quel vestito là quello grigio quello grigio deve luto quello là perché oggi siamo invitati dentro la mega galattica carrozza della regina e quindi dobbiamo far bella figura e qui Sansa ci dice Sansa ha already looked their best she had brushed out her long born hair until it is shown and picked her nicest blue silks she had been looking forward to today for more than a week it was a great honor to ride with the queen and besides prince Joffrey might be there her betrothed just thinking it made her feel a strange fluttering inside even though they were not to marry for years and years Sansa did not really know Joffrey yet but she was already in love with him it was all she ever grant her prince should be tall and handsome and strong with hair like gold she treasure every chance to spend time with him few as they were the only thing that scared there about today was Aria allora intanto appunto come vi dicevo Sansa è un po' bagliassata cioè ha un po' questi si è messa gli occhiali rosa del tutto va bene tutto è splendido perché perché possiamo dire che Sansa è un po' darwiniana da questo punto di vista nel senso siccome lei vede Joffrey bello alto come lei ha sempre desiderato il suo principe le parte subito la brocca ma in realtà diciamo questo atteggiamento di Sansa che può far storcere il naso in realtà ha senso in psicologia per esempio cioè questa cosa praticamente è quello che diciamo affligge un po' tutti quanti è quella cosa che ci porta a fidarci subito o fidarci di più se la persona davanti a noi ci piace ma questa cosa qui succede soprattutto con le persone che tu non conosci infatti qui proprio George Martin scrive che Sansa non conosceva Joffrey infatti quindi di conoscere anche messo in italico in corsivo proprio per farti puntare l'occhio sul fatto che lei non conosce Joffrey e da quello che dice qui sembra anche che lei non ci passi il tempo quindi lei piace Joffrey perché Joffrey lei lo trova molto bello cioè in realtà è molto bello ma lei lo trova proprio super bello e il trovarlo bello e il fatto che comunque Joffrey quando le poche volte che lo vede è galante nei suoi confronti a lei glielo fa amare tantissimo ovviamente poi è una ragazzina quindi la sua cotta proprio lei la porta a livelli esorbitanti perciò infatti anche qui dice che lo conosceva poco ma lei già lo amava e questo appunto si può vedere come Anza cresciuta più di tutti con le storie con la ricerca dell'amore si vede come queste storie qui la portano fuori strada ma ricordiamo sempre che Sansa viene comunque da un contesto in cui non c'è bisogno che lei si guardava intorno guardinga perché Grande Inverno è sicuro nessuno a Grande Inverno vorrebbe fare del male agli Stark quindi lei è vissuta 11 anni della sua vita tranquillissima capito tra le mura di casa sua senza doversi preoccupare di niente cresciuta con le storie e col sogno dell'amore vedremo infatti che Sansa ha questo tema il tema dell'amore molto centrale nella sua storyline cioè l'amore nel senso di mi ami per quella che sono e non per il nome che porto questa cosa qui diventerà molto molto prepotente nei capitoli di Sansa che proprio si troverà incastrata nei giochi di potere io infatti qui mi ricordo quando ero più piccola anche dieci anni fa questa cosa qui mi dava molto fastidio di Sansa ma appunto probabilmente per il carattere che avevo io all'epoca adesso la comprendo nel senso comprendo perché lei si comporti in un certo modo ma perché appunto ha delle situazioni intorno a lei che mi giustificano il fatto che lei si comporti così poi certo che se potrebbe da una svegliata quello sicuramente ma se era già subito attenta da quel punto di vista non ci sarebbe stata la sua storia la crescita del suo personaggio quindi è una parte che è molto interessante soprattutto per il fatto che è proprio questo che la porterà ad avere guai diciamo quindi è molto interessante questo questo tema che ha voluto mettere George Martin quindi lei dice anche che era tutta contenta lei si era appunto sistemata tutta per fare bella figura con la regina perché appunto c'è la regina t'ha invitato quindi tu devi fare bella figura e si era vestita appunto si era messo questo vestito blu si era pettinata i capelli finché non scintillavano e dice non vedeva l'ora lei di andare a fare questo pezzo di strada insieme alla regina non la preoccupava niente in realtà se non il fatto che anche Aria doveva stare lì quindi dice perché la spaventava Aria perché Aria è imprevedibile da quel punto di vista lì abbiamo visto che Aria è proprio l'esatto opposto rispetto a sua sorella quindi dove Sans appunto dà importanza a bella figura con le altre persone Aria questo non lo capisce cioè ancora non ce l'ha questa cosa qui Aria è molto più semplice dal punto di vista per esempio anche di come si concia come si veste la cosa che Aria sicuramente soffre e che le fa rigettare questi comportamenti appunto magari più eleganti più da lady è proprio il fatto che Aria si sente brutta ne abbiamo parlato in questo capitolo qui col fatto che Aria si sente brutta ed ha una sorella maggiore molto molto bella diciamo che lei questa competizione che sente le fa rigettare un po' tutto quello che è elegante tutto quello che è magari femminile perché per esempio lei che ne so cucire non è capace ballare non è capace cantare non è capace invece c'è la sorella che cuce canta balla fa tutto quello che deve fare queste cose ti vanno un po' sul culo cioè onestamente io la posso capire quindi Aria tende a fare quello che le pare diciamo è più così quindi anche magari il vestito se ne mette uno ma non le importa di fare bella figura con la regina cioè nel senso non mi frega niente questa è la differenza tra loro due a questo punto Sansa lascia la septa e esce da questa tenda insomma dove loro stavano e appunto ci parla che sta in questo posto che ci dobbiamo mettere tipo il puntino perché questa locanda che è enorme tipo giusto sì praticamente c'è questa locanda enorme dove appunto poi gli andanti si fermano e questa locanda qui la vedremo e la rivedremo e la rivedremo in più di un'occasione quindi teniamocelo teniamocelo bene a mente e Sansa appunto esce per andare a cercare Aria appunto ci dice che c'è sempre un sacco di gente perché non solo ci sono le persone che fanno parte dell'entourage del re ma ci sono anche appunto gli uomini di suo padre she found Aria on the banks of the trident trying to hold Nymeria's steel while she brushed dried mud from her fur the direwolf was not enjoying the process Aria was wearing the same riding ladders she had worn yesterday and the day before she found Aria and she found Aria vicino al fiume mentre intenta Aria a togliere il fango dal pelo di Nymeria e sta cercando di tenere ferma Nymeria così che la può pulire e però sembrava insomma che a Nymeria non piacesse molto questa cosa infatti si dimenava e Aria faceva molta fatica a farla stare ferma e Sansa nota che Aria sta ancora indossando diciamo i vestiti che aveva sia il giorno prima che sono i vestiti con cui cavalca sia il giorno prima che il giorno prima ancora You better put on something pretty Sansa told her Septamordain say so We're traveling in the Queen Wheelhouse with Princess Mircella today I'm not Sansa said trying to brush a tangle out of Nymeria's matted grey fur Micah and I are going to ride up steam and look for Rubis at the fort Rubis Sansa said lost What Rubis? Aria gave her a look like she was so stupid Gregor's Rubis This is where King's robber killed him and won the crown Sansa arriva e gli dice oh Aria mettiti qualcosa di carino perché oggi andiamo a stare dentro la carrozza con la principessa Mircella e Aria dice no no io non ce vengo vado con Micah a cercare i rubini per le sponde e Sansa se la guarda tipo rubini cioè lo dice proprio che rubini che rubini e qui dice Aria l'ha guardata come se fosse stupida e le dice questo qua è il tridente dove Robert ha ucciso Ragar e ha conquistato la corona per chi non si ricorda ne avevo parlato in questo video qui praticamente quando Robert ha usato il suo martello contro Ragar il suo war dammer contro Ragar praticamente l'ha colpito in piano petto dove aveva lo stemma ovviamente Ragar della sua casata quindi il drago i tre draghi le tre teste di drago che ognuno aveva dei rubini dentro e quando gli è arrivata la botta praticamente questi rubini tant'era la forza di Robert che si sono staccati dall'armatura e quindi c'è questa viceria che nel tridente ci sono questi rubini che tu insomma puoi trovare Tansa Ragar there's crony little sister in disbelief you can look for rubies the princess is expecting us the queen invited us both i don't care Arya said the wheelhouse doesn't even have windows you can't see a thing allora what could you want to see Sansa said annoyed she had been thrilled by the invitation and her stupid sister was going to ruin everything just as she feared it's all just field and farms and all fuss it is not Arya said stubbornly if you came with us sometimes you'd see I hate riding Sansa said featherly all it does is get you soiled and dustly and sore quindi Sansa si guarda la sorella e dice ma non puoi andare a cercare i rubini dobbiamo andare a fare questa cosa con la principessa ci ha invitato e Arya dice non me ne frega niente quella carrozza non mi piace è tutta chiusa manco posso vedere fuori se la guarda pure lei come dice la sua stupida sorella e dice ma cavolo ma che ti frega nel senso che c'è da vedere sono solo campi fattorie old fast nel senso che devi guardare e allora c'è Arya che dice ma no ma guarda che c'è molto di più se solo venissi con noi ogni tanto lo vedresti e Sansa dice no perché io odio cavalcare ricordate questa cosa sono una palla perché ti sporchi e poi dopo stai pure ti stanchi anche che ti lascia comunque cavalcare di solito ti lascia anche le gambe un po' doloranti e mi spezza perché loro sono completamente l'opposto e per l'età che hanno al momento effettivamente è impossibile per loro riuscire a trovare il middle ground cioè riuscire a trovare la parte dove possono comunicare perché quello che per Sansa è stupido Arya lo ritiene importante quello che per Arya vede stupido per Sansa è importante quindi diciamo che al momento ricordiamo appunto che Sansa ha 11 anni Arya ne ha 9 sì esatto quindi diciamo che riuscire ad avere l'empatia per capire che l'altra persona è diversa da te è un po' difficile e quindi però mi spezza perché proprio non c'è modo per loro in questo momento qui proprio per una è importante una cosa e per l'altra un'altra Arya shrugged hold still she snapped a Nymeria I'm not hurting you then to Sansa she said when we were crossing the neck I counted 36 flowers I never saw before and Micah showed me a lizard lion Sansa shouted they had been 12 days crossing the neck rumbling down a crooked causeway through an endless black bog and she had hated every moment of it adoro Arya in questo momento qui è diciamo una bambina che per quanto riguarda appunto l'attenzione a guardare per esempio ciò che è per esempio la natura cioè molto curiosa di cose che non ha mai visto e quindi la interessano è bellissima questa cosa infatti dice cioè no ma da che siamo arrivati qui all'incollatura cioè ho visto tipo 36 fiori che io non avevo mai visto cioè Maika mi ha pure fatto vedere la lizard lion che è questa qui non so il nome italiano al momento e invece c'è Sansa al contrario non la capisce sta cosa perché dice cioè da che hanno passato l'incollatura da 12 giorni pongo sempre l'attenzione a quanto è bravo George Martin a farci capire il tempo che passa appunto lei dice cioè a lei invece questa incollatura non è piaciuta per niente perché era tipo un sacco umida e sì perché non c'è neanche niente ci stanno tipo le foreste tutte ammassate tra di loro c'è tutto fango ci sono sì questi fiori che nascono nel fango però insomma comunque è tutto fangoso e sì le aveva viste anche lei queste lizard lions però non ovviamente non le piacevano ma tutta questa questa roba che per stanza è tipo non lo so cioè sta all'inferno cioè te la descrive come se sta all'inferno proprio non gli piace non gli piace sto posto invece Aria sta cosa qui non l'ha fermata e lei è andata all'avventura e quindi infatti dice adoro questa cosa qui è uno dei pezzi è uno dei pezzi che mi è sempre rimasto in mente perché Aria quando si ferma va all'avventura lei va in esplorazione e una di queste volte qui era andata in giro ed era tornata con questo mazzo di fiori di fiori viola e lei era completamente sporca di fango e aveva portato questi fiori per il padre e Sansa dice vabbè mo lui gli dirà qualcosa nel senso gli dirà te prego figlia mia datte una regolata perché c'è nel senso sei una nobile dove vai e invece dice lui niente l'ha solo abbracciata e l'ha ringraziata per i fiori cosa che ovviamente poi ha spinto Aria a farla ancora di più è una cosa che a me piace molto di Neb il fatto che non cioè lascia molto esprimere i suoi figli quello che piace fare ai suoi figli non li in scatola cioè non li non li indottrina in un determinato modo cioè appunto se a Sansa piace comportarsi proprio da super super lady glielo fa fare se Aria non lo vuole fare Aria non lo fa se Bran se vuole arrampicare sui muri Bran non lo può fare perché gli piace a me questa cosa qui mi piace molto di Ned perché è molto a contrasto con l'immagine che lui ha questo uomo che comunque viene sempre descritto che ha questo viso un po' duro come la pietra un po' anche inespressivo come tutti gli Stark e invece poi i suoi figli lui li lascia proprio liberi di appassionarsi anche alle cose che gli piace senza indottrinarli per forza in un determinato standard però ovviamente si trovano in una società che invece ti standardizza quindi Sansa non riesce a capire che per sua sorella è difficile cioè lei non è portata a comportarsi da da ragazza nobile è diversa le piacciono altre cose e Sansa in questo momento qui non ci arriva a capire che non è che sua sorella si comporta male è semplicemente che sua sorella non non si trova in quello che comunemente una lady dovrebbe fare e Sansa la giudica su questo rispetto invece al loro padre è totalmente contento che porti i fiori anche se è coperta di fango da testa ai piedi al sì Sansa had seen them when her sister undressed for sleep. How she had gotten those, only the seven girls knew. E allora dice, era bello perché poi questi fiori di Ola che le aveva portato a suo papà è bucato fuori che invece erano tipo velenosi, si chiamano tipo i poison kisses, i baci avvelenati, non so se è così anche nella versione italiana. E allora mi fa ridere perché Sansa dice, vabbè, a quel punto lei sperava, dice, vabbè, avrà imparato la lezione e basta. Invece no, lei ha riso, tutto a posto, anche se aveva tutte tipo, aveva fatto reazione sulla pelle, ma il giorno dopo l'ha trovata tipo mezzo al fango, a mettersi il fango sulla pelle, perché Maika gli aveva detto che faceva bene se c'avevi queste eruzioni cutanee. E dice poi pure un'altra cosa, è che quando si toglieva i vestiti per andare a dormire, Sansa vedeva che era piena tipo dei lividi, infatti diceva, solo i sette dei sanno che cazzo fa. Secondo me è un sacco carino rileggersi il capitolo di Aria prima, questo qui, e vedere Sansa adesso, perché è molto molto bello come sono diametralmente opposte. Aria che continua a dirle, ma guarda, ma dovresti venire con noi, perché tipo l'altro giorno appunto si era allontanata, la settimana prima, e ha trovato tipo una torre di guardia infestata, quindi tutte queste cose. E Sansa ha la cosa che però, su cui si ferma e dice, ma tu non ti puoi allontanare così tanto, ce l'ha detto nostro padre. E lei dice, ma non mi sono allontanata tanto, e poi comunque c'era Neimeria con me, quindi non succede niente. Dice anche perché mi piace andare in giro, e poi dice anche quando stanno appunto in viaggio, a lei piace andare a parlare con la gente. E Sansa dice, Quindi dice, sì che lei sapeva bene appunto Aria con chi le piaceva stare, che erano appunto tutte persone molto semplici, persone povere, persone che non sono di alto rango, ma per Sansa il peggio di tutti ovviamente è questo Maika, che ha 13 anni e lui è praticamente, lavora con il macellaio, e dorme nel vagone, quello dove portano la carne, quindi lei dice anche appunto che puzza di carne. Però a quanto pare Aria preferiva passare il tempo con Maika rispetto a passare il tempo con Sansa. E da come lo dice si vede che lei è infastidita, perché non capisce il perché. Io quello che ti posso dire, Sansa, è che certo, se poi l'amica tua, la carissima Jane Poole, la continua a insultare, la prende in giro, La povera Aria, diciamo che sicuramente si trova meglio tra altra gente che non la tratta in quel modo lì, quindi insomma, nel senso, o teniamo a bada Jane, o lei sicuramente con voi non ci vuole stare, cioè si capisce. Sansa was running out of patience now. You have to come with me, she told her sister firmly. You can't refuse the queen, except a more day we'll expect you. Aria ignored her. She gave a hard yank with the brush. Nymeria growled the spoon away, affront. Come back here. There's going to be lemon cakes and tea, Sansa went. All adult and reasonable. Lady brushed against her leg. Sansa scratched her ear, the way she liked. A lady sat beside her on her hanches, watching Aria chase Nymeria. Why would you want to ride a smelly old horse and get all sore and sweaty when you could recline a feather pillow and eat the cakes with the queen? I don't like the queen. Aria said casually. Sansa le dice, a un certo punto dice, no basta, allora divento ferma e dice, no, dobbiamo andare, di venire con me, perché dobbiamo andare dalla regina, except a more day, cioè si aspetta che ne facciamo questa cosa qui. Aria invece, tanto è presa a sistemare Nymeria, quindi neanche le risponde. Allora Sansa prova a comprarsela, perché dice, ma ci saranno anche le lemon cake, cioè le torte di limone, no? Cioè, nel senso, e mi spezza perché dice, glielo dice tutta all adult and reasonable, cioè lei si sente molto adulta nel dirle questa cosa, e molto ragionevole, cioè nel senso, quindi è come per dire, sono io la matura tra le due, e dice che Lady comunque è sempre lì vicino a lei, infatti la stava accarezzando, e poi dice a Aria, ma perché vuoi cavalcare, e sta in mezzo alla puzza appunto del cavallo, e poi essi stanca, che sudi, quando invece ti potresti mettere comodamente dentro a una carrozza, su un comodo cuscino a mangiare torte, cioè nel senso, perché non vuoi fare questa cosa qui? Poi appunto ci sarà anche la regina, e Aria le dice, a me non mi piace la regina. Sansa sat in her breath, shocked that even Aria would say such thing. She won't even let me bring Nymeria. She thrust the brush under her belt, and stole their wolf. A royal wheelhouse is not place for a wolf, Sansa said, and Princess Mircella is afraid of them. You know that. Mircella is a little baby. Aria grabbed Nymeria around her neck, but the moment she pulled out the brush again, and the dark wolf wringed free and bounded off. Frustrated Aria threw down the brush, bad wolf, she shout. Quindi dice, non mi piace la regina, che Sansa fa tipo, cioè, come puoi dire una cosa del genere? Qui, se mi potete dire poi la traduzione in italiano, perché qui dice, Sansa shocked, sucked in her breath, quindi prende questo respino tipo strozzato, scioccata, che anche Aria stava dicendo questa cosa. Quindi io da qui non riesco a capire se, cioè, letteralmente, se vuole dire che anche Aria stava dicendo questa cosa, o che Aria stava dicendo questa cosa, perché, come Cersei è così bella, Cersei è una regina, Cersei, diciamo, la tratta con cortesia, per Sansa, Cersei è meravigliosa, Cersei è tutto quello che una regina deve essere. Ovviamente, appunto, perché non la conosce, è una cosa molto superficiale, che però, purtroppo, ti fa avere un'opinione, cioè, ti alza l'opinione di una persona, e prima che tu capisci che questa persona è una merda, troppo ne deve passare, perché ormai sei bagliassato proprio fino alla fine, cioè, sei completamente sotto l'incantesimo di queste persone. Ne soffriamo anche con, che ne so, se vi piace tanto una celebrità, e poi magari esce fuori che questa celebrità in realtà non è una brava persona, e tu ne rimani sconvolta, perché quella persona non la conosci, però sei affascinato da quella persona perché magari la trovi bella, e quindi poi la troverai simpatica, e quindi poi la troverai super intelligente, e non hai modo, effettivamente, di vedere se questa persona è così oppure no. E nel momento in cui poi, magari, o la conosci, o si rivela per chi è, allora lì ovviamente ti crolla tutto quanto, però questa cosa che Sansa ha con Joffrey ce l'ha anche con Cersei, ma Cersei, diciamo, per quanto appunto sia molto bella, molto, in realtà, molto bella, perché poi, diciamo, è una stronza, in questa parte di stronzaggine, tanti si rancorgono, cioè praticamente tutti, quindi non capisco se qui George Martin vuole dire che non ci posso credere che pure c'è una festa qua sotto, probabilmente ci faranno compagnia stasera, non riesco a capire se dice che non ci poteva credere che anche Aria diceva che non le piaceva Cersei, o che Aria diceva che non le piaceva Cersei, ditemi come l'hanno tradotto in italiano, perché su questa non sono sicura, e una cosa proprio che Aria non riesce ad accettare è il fatto che Cersei non vuole che dentro all'enorme carrozza non vuole fare entrare i lupi, e ad Aria questa cosa qui non va bene, invece Sansa dice ma una carrozza non è il posto per un lupo, poi lo sai che Mircella ha paura dei metalupi, e Aria fa Mircella è una ragazzina, e mi spezza perché questa parte qui ce l'hanno molto gli Stark, che è secondo me anche una parte del fatto che loro sono del Nord, come ho detto anche in altri video, gli uomini del Nord, cioè le persone del Nord, normalmente si reputano molto più forti, ma nel senso di Tempra, rispetto agli uomini del Sud, cosa che tante volte è vera, cioè non dico di no, probabilmente anche per l'environment in cui si trovano, cioè comunque tu un po' sei come l'environment che ti circonda. Gli Stark ce l'hanno questa cosa qui, nel senso soprattutto quando hanno a che fare con gente del Sud, a volte appunto la dicono, sta cosa come per dire appunto tipo hai paura del lupo? Sei una ragazzina, appunto ci fa vedere un po' come funziona anche il pensiero proprio delle persone che vivono a Westeros, quindi i Northners, quindi chi vive al Nord, normalmente un po' si stacca dal Sud e ricordiamo sempre che gli Stark sono un po' sassi, l'abbiamo visto da tutti in realtà, l'abbiamo visto da Arya, l'abbiamo visto da Jon, l'abbiamo visto da Bran, ma anche Ned l'abbiamo visto e questa parte qui ce l'hanno tutti, Sansa anche ce l'ha, da quando poi le cose si cominciano a mettere male, male, lo vedremo tantissimo, però ecco, hanno questa parte molto snap, molto sassi, quindi una cosa che è un peccato che nella serie non abbiano messo. Allora, qua è carino perché quando adesso Arya stava sempre, stava cercando di pettinare Nymeria, che a un certo punto si era staccata, cioè si era allontanata, allora Arya aveva tipo nascosto il pettine e quando poi si è avvicinata a Nymeria, l'ha ritirato fuori e qui hanno ricominciato tipo che si rincorrevano e allora a un certo punto c'è Arya ha tirato questa spazzola a Nymeria, no a Nymeria l'ha tirata così e ha detto Bad wolf, no she shouted ed è carino perché qui dice Sansa couldn't help but smile a little. The kennel master once told her that an animal takes after its master. Carino perché cioè comunque stanno litigando, però quando vede appunto la sorella che sta facendo questa cosa con il lupo comunque dice Sansa non è riuscita a non sorridere ed è carino perché è proprio un modo tenero in cui la guarda cioè non è che la sta prendendo in giro è proprio che dice c'è come guarda che carina anche perché dice il kennel master quello che si occupa dei cani le aveva detto che di solito gli animali hanno l'atteggiamento che ha il loro il loro padrone insomma e quindi probabilmente vedeva questa questa similitudine tra Arya e Nymeria che sono entrambe appunto molto selvagge infatti guardava anche giù Lady che invece era lì seduta tranquilla vicino a lei proprio precisissima Lady licked her cheek Sansa giggled Arya heard and whirled around glaring I don't care what you say I'm going out riding Her long horsey face got the stubborn look that meant she was going to do something willful God be true Arya sometimes you act like such a child Sansa said I'll go by myself then I will be ever so much nicer the way Lady and I will eat all the lemon cakes and just have the best time without you don't walk off but Arya shouted after her they won't let you bring Lady either she was gone before Sansa could think of a reply chasing Nymeria along the river alone and humiliated Sansa took the long way back to the inn where she knew Sepna Mordain would be waiting quindi appunto c'era Sansa stava pensando a questa cosa qui dei propri animali che prendono un po' del padrone allora c'era lì vicino a lei Lady Lady le ha leccato la guancia allora lei ha sorriso ma quando Arya ha sentito che lei ha riso si è girata molto incavolata guardandola male e le ha detto guarda che non mi interessa quello che dici io vado vado a cavalcare e Sansa dice dalla faccia che aveva fatto si sapeva insomma sapeva che tanto Arya avrebbe fatto quello che voleva e quindi a quel punto Sansa sbotta e gli dice certo che però sei proprio una ragazzina allora guarda fai come te pare io vado da sola saremo io e Lady a mangiare tutte le torte che ci sono e giustamente Arya quando poi la vede che si sta girando lei dice guarda che tanto non ti fanno portare neanche Lady però Sansa non aveva la risposta pronta quindi quando si è girata ha visto Arya che andava via con Imeria e sola e umiliata se ne torna da Sept Amordain mi dispiace molto che nella serie questo scambio tra Arya e Sansa non l'hanno messo perché hanno cioè li hanno fatti semplicemente che litigano nel senso che sono due che litigano e anzi hanno fatto a Sansa anche tanto tanto antipatica nel senso non è contestualizzata perché poi non voglio dire che vi deve stare simpatica Sansa per forza come non vi deve stare simpatica Arya per forza però nella serie hanno tenuto molto a prendere le parti di Arya senza spiegare le parti di Sansa cioè Sansa appunto sembra semplicemente questa ragazzina un po' viziata che se la crede ma Sansa non se la crede cioè non è che qui lei glielo dice mettendosi in una posizione in cui dice io sono meglio di te tu dovresti fare questa cosa perché te lo dico io no è perché lei dice cavolo cioè la regina che è tipo la più alta cosa vuole passare il tempo con noi la principessa che è sempre l'altra più alta cosa vuole passare il tempo con noi cioè ma perché non vuoi farle queste cose qui che per lei perché capito visto che per lei per Sansa sono cose importanti non riesci a capire perché Arya non le trovi altrettanto importanti non sono soltanto una sorella che le piace la natura e l'altra che invece le piacciono i bei vestiti cioè c'è molto di più anche Arya stessa nei confronti di Sansa parte subito indifensiva cioè anche adesso avete visto che Sansa stava ridendo per conto suo ma Arya subito pensa che Sansa sta ridendo di lei cosa che non stava succedendo ma questa cosa qui nella serie non l'hanno fatta vedere cioè se tu mi fai vedere semplicemente che appunto magari Sansa è molto opinionated sul fatto che cioè c'è molte opinioni sul fatto di come uno si deve comportare ma non mi fai vedere invece la parte di Arya che lei si sente effettivamente come se tanto lei come la sorella non potrà mai essere rendi tutto troppo piatto e molto banale perché appunto cioè Arya comunque non è tomboy che poi abbiamo visto nella serie lei è una ragazza che non si trova con gli interessi che una lady dovrebbe avere ma ovviamente messa in competizione con una sorella che riesce a fare tutto tu non solo ti senti tanto non ci riesci ma cominci ad odiarle queste cose non solo odi le cose che devi fare ma odi pure lei perché lei ci riesce quindi da parte di Arya c'è questa invidia nei confronti di Sansa Sansa invece si pone come per dire ma è questo che tu devi fare cioè nel senso una lady questo dovrebbe fare cioè a noi è richiesto di fare questo perché tu non capisci che a noi è richiesto di fare questo e lei non riesce a capire invece che magari sua sorella non lo vuole fare non c'è portata e lei il suo problema è che la giudica su questa cosa qui è molto più interessante nel senso anche perché io non so nella serie quanto le vediamo fino a questo punto interagire non mi pare che interagiscono poi così tanto in realtà invece sono carini questi pezzi tra di loro perché comunque ti fanno vedere la differenza e appunto Sansa non è una che tratta male sua sorella Sansa è semplicemente un'altra bambina che non capisce sua sorella come Arya non capisce Sansa Sansa sta tornando da Settamordain vedete come lei ha una visione delle cose lei ha una visione di come dovrebbero essere le cose e non riesce a capire e non riesce ad accettare che sua sorella sia in un altro modo e quindi magari appunto fa anche il paragone con Mircella dice ma perché non posso avere una sorella pure a lei perché magari hanno più cose in comune invece con Arya lei non riesce a comunicare come dicevo prima Sansa could never understand how two sisters born only two years apart could be so different it would have been easy her ifaria had been a bastard like her half brother John she never looked like John with the long face and brown hair of the stars and nothing of their lady mother in her face or her coloring and John's mother had been common or so people whispered once when she was little Sansa had even asked mother if perhaps there hadn't been some mistake perhaps the grand kings had stole a real sister but mother had only laughed and said no Arya was her daughter and Sansa's true born sister blood of their blood Sansa could not think why mother would want to lie about it so she supposed it was be true so she didn't understand how it was possible that two sisters were so diverse also in the físico because for example Arya is equal to John and in fact she said that in a period when she was little when she was little since Arya was equal to John Sansa had thought that Arya was a bastard because she was equal to John and then she said she had also asked to her mother and she said she said she said that maybe the grand kings have taken her mother and she changed her mother and she said that she said a little and she said that she's your sister she's your sister and true born like you like you like you like you are the sanguine of your son and you have the same sanguine and Sansa said she didn't find the reason why she would have to mentir so it was true and she she did she did because she she did una delle cose anche base di quando sei piccolo ma anche lo scherzo normale che ti fanno i fratelli grandi quando ti dicono, eh no ma lo sai che tu non sei veramente figlia di mamma e papà, è una cosa che effettivamente succede, anche a chi va d'accordo ogni tanto succede e a questo punto Sansa si avvicina verso sta carrozza di Cersei dove sentiva delle voci dentro a un certo punto questa porta si apre e vede la regina quindi vede Cersei che stava all'entrata di questa carrozza che stava sorridendo a qualcuno e Sansa la sente dire the council does us great honor my lords what's happening? she asked a squire she knew the council sent riders from king's land to escort us the rest of the way he told her an honor guard for the king quindi praticamente ovviamente c'era vesto la regina appunto che stava che stava sorridendo a qualcuno e che Sansa si avvicina a uno scudiero che lei conosceva e ha detto ma che succede? e a quanto pare il consiglio ha mandato dei riders quindi delle persone ha mandato delle persone da king's landing per scortarli verso la capitale era tipo una guardia d'onore per il re Anxious to see Sansa let lady clear a path through the crowd people move aside Hesley for the direwolf when she got closer she saw the two knights kneeling before the queen an armor so fine and gorgeous the remaker blink quindi ci dice che lei voleva vedere quindi manda avanti lady perché di solito quando poi lady passava siccome è un metalupo tutti quanti si espostano perché hanno paura del metalupo e quando arriva più vicino alla carrozza finalmente vede chi stava parlando con Cersei e sono due due cavalieri one knight wore an intricate suit of white and enameled scales brilliant as a field of new fallen snow with silver chasing and clasp that glitter in the sun when he removed this helm Sansa saw that he was an old man with hair as pale as his armor yet he seemed strong and graceful for all death from his shoulder hung the pure white cloak of the kingsguard quindi uno dei due è una kingsguard è vestito di questa armatura bianca e anche i suoi capelli sono bianchi però dice nonostante l'età quest'uomo è molto aggraziato e sembra anche molto forte his companion was a man mere 20 whose armor was still pale of a deep forest green he was the handsomest man since I'd ever set eyes upon tall and powerful maid with jet black hair that fell to his shoulder and frame a clean shaved face a laughing green eyes that match his armor cradle under one arm was an antlered helm it's magnificent rack shimmering in gold invece il secondo era nei suoi 20 anni aveva questa armatura verde tutta verde e dice che appunto quando l'ha visto ha detto questo è l'uomo più bello che lei abbia mai visto in vita sua anche meglio di Geoffrey quindi l'uomo più bello che abbiamo visto in vita sua ha questi capelli neri lunghi che prende e li cascano intorno al viso e ha questi occhi verdi che ricordano appunto la come si chiama l'armatura appunto è bello è prestante è forte è molto alto e chi saranno questi due e non ci sono solo due perché c'è un terzo che dice at first Sansa did not notice the third stranger he did not kneel with the others he stood to one side beside their horses a gaunt grim man who watched the pre proceeding in silence his face was paw-marked and beardless with deepest eyes and hollow cheeks though he was not an old man only a few whips of air remained to him sprouting above his ear but those he had grow long as a woman his arms was iron gray chain male over layers of void later plain and adorn and he spoke of age and hard use above his right shoulder the stained layer hilt of the blade strapped to his back was visible a two-handed great sword too long to be worn at his side poi c'era un terzo uomo che lei però prima non aveva visto che però non si è inchinato stava da un lato vicino ai cavalli e guardava tutto in silenzio non aveva la barba aveva occhi 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 profondi e la faccia scavata e non era un uomo vecchio però c'aveva pochi capelli cioè non ce l'aveva sopra praticamente ma c'aveva tipo un po' qua intorno e quelli che c'aveva e se li era fatti crescere lunghi la cosa che ci interessa del suo vestiario è il fatto che ha dietro la schiena una lunga spada sicuramente doveva impugnare a due mani e che era siccome una lunga spada era troppo lunga per potersela portare al fianco quindi se la doveva tenere sulla schiena the king is gone hunting but I know he will be pleased to see you when he returns the queen was saying as the two knights un health before her abbastanza could not take her eyes off of the third man he seemed to feel his voice rasping do I frighten you so much? io volo allora praticamente ci dice che la regina stava parlando ai due cavalieri che si erano inchinati lì davanti a lei e gli ha detto dice guardate adesso il re non c'è ma è andato a caccia ma intanto quando torna sicuramente sarà molto felice di vedervi qui senza non stava più guardando la regina e questi due tizi ma il suo sguardo era sul terzo sul terzo che quando è come se quando lei l'ha guardato ha capito che lo stava guardando e quindi si è girato a guardarla ma sto tizio gli ha messo talmente tanto ansia a lei che proprio dice ha provato una paura incredibile la paura più grossa che aveva mai provato fino a quel momento infatti anche lei li stava ringhiando allora che lei fa un passo indietro e sbatte dietro a qualcuno che gli mette una mano sulla spalla e lei dice che in quel momento quando ha sentito il tocco praticamente pensava quasi che fosse suo padre ma invece quando si è girata ha visto che era Sandor Clegan questa parte qui allora io sono una grandissima fan di Sandor e Sansa questo lo capirete andando avanti nei libri e nei capitoli ma soprattutto i primi due libri anche perché in ogni capitolo di Sansa c'è anche Sandor però la cosa qui appunto su cui mi voglio focalizzare è che intanto il concept di Sandor e Sansa è lo stesso concept che hanno Jamie e Brienne ossia quello della Bella e la Bestia il caro George Martin ama il concept della Bella e la Bestia infatti aveva anche lui partecipato alla stesura della sceneggiatura di questa serie qui degli anni 80 quindi lui ama proprio tantissimo La Bella e la Bestia infatti si vede insomma dalle coppie che poi lui va a scrivere io penso che appunto Sansa e Sandor siano poi una coppia che andando avanti nei libri soprattutto poi ci saranno anche i salti temporali secondo me andranno a finire insieme e appunto la cosa che mi fa molto sorridere è il fatto che la prima cosa che lei sente quando sente il tocco di Sandor è il pensiero di pensare al padre ora normalmente la persona il tuo papà è la persona con cui tu ti senti sempre al sicuro soprattutto noi figlie amiamo il nostro papà tantissimo amiamo il fatto che ci fa sentire al sicuro quindi quando tu senti con un altro uomo quella sensazione che provi quando sei con il tuo papà di sicurezza vuol dire tanto perché appunto sentirsi al sicuro come quando ti senti al sicuro con il tuo papà non è scontato e quindi mi piace un sacco che lei dice questa cosa qui e non vedo l'ora che potremo parlare insieme di tutte le scene tra Sandor e Sansa perciò lei si gira vede che è Sandor e che lui la guarda e praticamente le fa tipo un sorriso un po' come per prenderla in giro che infatti gli twista anche il lato della faccia perché lui ha sinistra giusto? è bruciata quindi anche la pelle gli si tira insomma in un modo diverso e le dice stai tremando ragazzina ti faccio paura così tanto perché lui appunto le aveva chiesto se le faceva paura e lei dice cioè lei pensa dice sì onestamente anche la prima volta che aveva visto quello che il fuoco aveva fatto alla faccia di Sandor aveva pensato che era molto spaventoso ma ora guardandolo non faceva paura quanto faceva paura quell'uomo lì che l'ambuttiva a questo punto lei comunque anche se dice non aveva paura di Sandor come aveva paura di quello lì però fa un passo indietro e si allontana insomma da Sandor e lei gli si mette in mezzo ma Sandor ride di nuovo Hansa dropped to her knees to wrap her hands around the wolf they were all gathering around gaping she could feel their eyes on her and here and there she heard mattred comments and tilted of laughter a wolf a man said and someone else said seven elves that's a dire wolf and the first man said what's he doing in camp and the hound rasping voice replies the Stark used them for wet nurses and some realized that the two stranger knights were looking down at her a lady sourcing their hands and then she was frightened again and ashamed tears filled her eyes quindi dice che lei appunto poi si è praticamente messa per terra vicino a lady ha abbracciato lady e a quel punto ha sentito due voci uno che faceva diceva madonna ma che è sto coso e l'altro faceva ma è un metalupo e il primo diceva ma che ci sta a fa' qua e praticamente e poi c'è Sandor che dice gli Stark usano i lupi come balie praticamente e Sansa a quel punto lì si rende conto che i due che stavano parlando erano i due cavalieri che stavano prima davanti a Cersei e quando vede comunque la stavano guardando e stavano guardando anche il lupo lei si è sentita comunque in imbarazzo quindi le stava venendo anche da piangere a un certo punto si sente la voce di Cersei fare Joffrey vai da lei allora arriva Joffrey che lui fa tutto quello che mamma dice quindi Joffrey arriva e dice ma che cosa sta succedendo mia lady quindi l'aiuto ad alzarsi e dice non avere paura al che allora si gira anche agli altri togliete queste spade perché se non avvicinati con le spade togliete queste spade e il lupo è il suo animale il suo animale domestico il suo pet e poi si gira verso Sandor e dice tu cane Joffrey chiama Sandor cane e il bello è che neanche con la D maiuscola cioè dog proprio non è un nome è un animale praticamente ne battene perché stai spaventando la mia promessa sposa e Sandor tranquillamente dice ever faithful quindi sempre molto lealmente fa un piccolo inchino insomma con la testa e se ne va e al che Sansa improvvisamente dice si sente si sente stupida insomma di come ha reagito dice cavolo io sono una Stark di grande inverno porca miseria sono una donna nobile un giorno sarò regina allora dice ma non è stato lui Sandor a spaventarmi ma è stato l'altro questa cosa qui è una cosa che per esempio nella serie non hanno mai messo tra Sandor e Sansa questi pezzi dove Sansa effettivamente lo difende questo è il primo poi negli altri capitoli vedremo gli altri ma Sansa di solito difende sempre Sandor cioè non lo incolpa mai invece nella serie quando qui arriva Geoffrey e poi il bello è che arriva di sua sponte non perché la madre gli ha detto di andarci quando lui dice cane la stai spaventando lei è talmente lei rimane fissa a guardare Geoffrey Sandor va via e lei non dice niente invece c'è comunque è importante anche perché qui vediamo che lei c'è anche per darsi un tono perché giustamente dice non mi ha spaventato lui se io devo essere regina non voglio che poi si pensi che è stato lui a spaventarmi se poi lui è innocente quindi lo fa anche per quello per una sorta di giustizia che dice non mi ha spaventato lui quindi non gli dire queste cose non è successo niente e invece nella serie tutti questi pezzettini li hanno tolti the two stranger knights exchanged a look pain chuckled the young man in grey armor the older man in white spoke to Sansa gently oft times Serilin frightens me as well sweet lady he has fearsome aspects as well he should the queen had descended from the wheelhouse the spectators parted to make way for her if the wicked do not fear the king's justice you have put the wrong man in the office Sansa finally found her worse they then surely you have chosen the right one your grace she said and a gale of laughter erupt around them well spoken child said the old man in white as benefit the daughter of Eddard Stark I'm honored to know you however irregularly matter of our meeting I'm Serbary Stan Selmy of the Kingsguard i bow io sta cosa qui non capirò mai perché in a serie non l'hanno messo santo cielo allora perché mentre poi è arrivato Joffrey ma gli altri rimangono comunque intorno non è che ci stanno solo loro due e allora quando poi lei dice che gli aveva fatto paura quello là c'è quello con l'armatura verde che ride dice ma chi Payne e c'è quello con l'armatura bianca che invece fa guarda se ti devo essere proprio onesto a volte Serial in Payne fa paura anche a me ha un aspetto che fa paura effettivamente e allora arriva anche Sersi che dice come deve essere perché comunque la gente deve avere paura della giustizia del re la giustizia del re ricordiamo che sono quelli che passano la sentenza contro un criminale l'abbiamo sentita nel primo capitolo di Bran quando Ned gli insegna a Bran che la giustizia del re al nord non viene fatta fatta fare a un boia ma viene fatta esattamente da il lord che passa la sentenza quindi gli Stark fanno così sono le vecchie tradizioni invece al sud come spiegava anche Ned in quel capitolo il re ha invece un boia e questo boia si chiama infatti poi lo chiamano la giustizia del re perché se il re decide di far uccidere qualcuno far uccidere un criminale la sentenza viene passata da Serene Payne e dice deve far paura perché se no se non fa paura abbiamo sbagliato a scegliere l'uomo cioè sbagliato a noi ci sta Sansa che risponde beh allora sia così your grace vostra grazia avete scelto l'uomo l'uomo giusto insomma e tutti a questa cosa che lei dice tutti quanti ridono e l'uomo vestito di bianco dice ben detto proprio come si confà alla figlia di Eddard Stark sono onorato di conoscerti anche se insomma è stato un modo un po' strano quello in cui ci siamo conosciuti ma io sono Ser Barristan Selmy Ser Barristan Selmy perché Ser Barristan Selmy io non l'ho visto lì e ci dice che fa parte delle Kingsguard ma Sansa già ce l'aveva detto Sansa knew the name and now the courtesy is the Septimordain had taught her over the years came back to her the lord commander of the Kingsguard she said and consilio to Robert our king and to Aerys Targaryen before him the honor is mine good night even in the far north the singers praised the deeds of Barristan the bold quindi dice che in quel momento lì andò saputo chi era lui e le sono ritornate in mente tutti gli insegnamenti di Septimordain allora dice sei lord commander della Kingsguard quindi sei lord comandante della Kingsguard e il consigliere di Ser Robert come lo sei stato anche di Aerys Targaryen prima di lui l'onore di conoscerti è il mio e anche nel lontano nord ci sono appunto i cantori che cantano delle gesta di Barristan the bold oddio Ser Barristan the bold mi viene un po' S che si chiama così il valoroso ok si chiama così quindi Ser Barristan il valoroso the green knight laughed again Barristan the old you mean don't flatter him too sweetly child he thinks over much of himself already he smiled at her now wolf girl if you can put a name to me as well then I must concede that you are truly our aunt's daughter Geoffrey stiffed beside her Eva care how you address my betrothed I can answer Sansa said quickly to quell her prince anger she smiled at the green knight your helmet bears golden antlers my lord the stag is the sigil of the royal house King Robert has two brothers by your extreme youth you can only be Renly Baratheon lord of Stormsand and conceder to the king and so I name you bellissimo questo pezzo qui proprio perché per farvi capire che Sansa è tutto tranne stupida cioè Sansa osserva tantissimo infatti arriva l'altro l'altro cavaliere quello vestito di verde che dice si è molto valoroso più che altro barri stanno il vecchio dice non fargli troppi complimenti perché già se la crede comunque dice dimmi un po' ragazza lupo se puoi dare un nome anche a me senza che te lo dico e se lo fai posso essere sicuro che sei la figlia del nostro nuovo primo cavaliere e Geoffrey si incazza perché fa dice vedi un po' come chiami la mia promessa sposa ma Sansa subito fa no no ma io posso rispondere e lo fa anche perché voleva che Geoffrey si calmasse insomma allora dice sul tuo elmo hai due le corna del cervo il cervo è il sigillo della casa reale King Robert e il re Robert ha due fratelli e dalla tua giovinezza posso capire che sei re Baratheon il lord di capo Tempesta e consigliere del re e questo quindi è il nome che ti do Sir Barry Stanchakled by the extreme beauty can only be a prancing jack knaps and so I name him cioè Sir Barry Stancherri e dice vabbè dalla sua estrema giovinezza posso dire che è tipo una balla a somo e così io lo chiamo però appunto per farvi capire che Sansa è sveglia lei sa chi può avere intorno proprio ha studiato insomma sicuramente tutti i nobili che ci sono e osserva moltissimo quindi questa cosa qui secondo me George Martin l'ha messa proprio per quello there was a general laughter led by lord rally himself the tension of a few moments ago was gone and Sansa was beginning to feel comfortable until Selene in pain saldred two men aside and stood before her and smiling quindi dice che c'è stata tutti i lati in quel momento ridevano e tra queste risate c'era anche quella di rally proprio e quindi in quel momento lì che prima sembrava tutto molto teso in realtà lei si è sentita molto poi a suo agio tranne però poi quando Selene Payne si è messo davanti a lei che la guardava senza sorridere questo mette in ansia signori he did not say a word Selene Payne mette un'angoscia santo cielo perché dice appunto che Lady quando questo si è avvicinato si è incazzata stava già ringhiando ma lei l'ha fermata e ha detto mi dispiace se vi ho offeso Selene ma questo non risponde e la guarda con questi occhi che non hanno colore sono talmente chiari che non hanno colore e la osservava che dice che a un certo punto si è sentita spogliata proprio come se lui potesse vedere la sua anima Selene è un personaggio molto inquietante che ricordo quando giravo insomma per Tumblr tante persone paragonavano alla figura per esempio della morte cosa che effettivamente è molto 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 azzeccata proprio perché questo non parla vestito sempre di nero ovviamente poi uccide pure la gente e ti guarda come se appunto cioè vede proprio il tuo spirito è veramente molto inquietante a questo punto lui comunque senza dire una parola si gira e se ne va allora Sansa did not understand she looked at her prince did I say something wrong your grace why will he not speak to me Cerilin has not been feeling talkative this past 14 years Lord Rellie commented with a sly smile Ruffrey gave his uncle a look of pure loathing then took Sansa hands in his own and his Targaryen had his tongue ripped out without pincers he speaks most eloquently with his sword however the queen said and his devotion to our realm is unquestionable then she smiled graciously and said Sansa the good considers and I must speak together until the king returs with your father with your father I think we shall have to postpone our date with Mircella please give your sweet sister my apologies Joffrey 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 you would be so kind to entertain our guest today e si gira verso Joffrey Sansa e dice ma ho detto qualcosa di sbagliato perché questo non perché Seriline non mi ha risposto al che risponde Rellie però e gli dice beh sai non è che Seriline è molto talkative cioè molto parlantino diciamo dagli ultimi 14 anni al che Joffrey guarda Rellie con uno sguardo di odio puro prende le mani di Sansa per avere l'attenzione di lei mi fa molto ridere questa cosa qui perché lui che Joffrey nonostante non è che gli freddi tanto di Sansa sappiamo però la sua attenzione deve essere su di lui una cosa che mi ricorda molto Seriline però mi fa ridere che sta facendo a gara con Rellie per l'attenzione di Sansa in ogni caso Joffrey gli dice no perché Eris Targaryen ha fatto togliere la lingua a Healing Pain con delle pinze arroventate allora c'è Cersei che si mette in mezzo e dice sì ma parla di più parla meglio con la spada quindi insomma va bene lo stesso e poi dice a Sansa che quel giorno non possono fare quello che avevano pensato di passare la giornata con Mircella perché visto che ora sono arrivati Rellie Sir Barristan deve parlare con loro prima che torna il re e quindi chiede a Joffrey se si può prendere cura di Sansa e qui arrivano i dolori mi spezza perché Sansa parte proprio nell'iperuraneo quando fa queste cose praticamente sì perché Joffrey ha detto certo ci penso io a tenere compagni a stanza allora la prende per sì la prende a braccetto e lei quindi vola perché dice io sto volando posso stare tutta la giornata col mio principe sì che bello è stato così galante no e mi ha salvato da seri limpini dal mastino e come cantano nelle canzoni e quindi qui parte perché a me mi spezza che lei ogni volta ti fa una lista dei canzoni e delle storie che è allucinante come ha fatto Sir Sirwin del of the mirror shield io i nomi in italiano non li so però mirror shield è lo scudo di specchio praticamente quando ha salvato la principessa derissa dai giganti o quando il re aemond il dragon knight ha praticamente combattuto per l'onore della regina neris contro il cattivo Sir Morgil mi spezza a me quando lei parte che ti dice tutte le storie del mondo soprattutto quelle d'amore mi fa volare catch up Geoffrey's hand on her sleeve made her heart beat faster what would you like to do? be with you sansatote but she said whatever you like to do my prince cioè mi spezza perché è proprio è proprio come si sta passando il tempo cioè si ha 12 anni e passa il tempo con la celebrità che ama di più perché cioè mi spezza che appunto fa diciamo che ti va di fare lei pensa stare con te mi fa ride mi fa ride Geoffrey reflected a moment we could go riding oh I love riding Sansa said I hate riding Sansa said featherly il primo appuntamento un po' fai vedere cioè non ti fai vedere proprio per quello che sei Sansa è questo siamo andati a cavalcare e lei che due pagine fa ha detto io odio cavalcare adesso io amo cavalcare mi ammazza mi fa troppo ridere Geoffrey glanced back a Lady who was following at their heels your wolf is liable to frighten the horse and my dog seem to frighten you let me no let us save them both behind let us leave them both behind and set off on our own what do you say quindi dice guarda Lady perché Lady sta seguendo ovviamente Sansa come sempre e dice guarda però il lupo lascialo indietro perché potrebbe spaventare i cavalli come il mio cane paventa te quindi lasciamo i nostri cani indietro e andiamo noi da soli Sansa esitated if you like she said uncertainly I suppose I could tie Lady up she did not quite understand I didn't know you had a dog Geoffrey laughed he's my mother's dog in truth she had set him to guard me and so he does you mean the hound she said she wanted to eat herself for being so slow her prince would never love her if she seemed stupid is it safe to leave him behind Prince Geoffrey looked annoyed that she would even ask have no fear lady I'm almost a man grown and I didn't fight with wood like your brothers all I need is this he drew his sword and shew it to her a long sword a droity shrunken to suit a boy of twelve gleaming blue steel castle forged and double-edged with a leather gripped and a lion head pomer in gold Sansa screamed over it admirably and Geoffrey looked pleased I call it lion's tooth madonna che nome eh giustamente diceva parlava di un cane no e Sansa intanto vabbè dice vabbè se non vuoi che porto lady non la porto anche se non è che era molto convinta di sta cosa ma mi fa ridere che poi lo guarda e dice ma io però non sapevo che tu c'avevi un cane e lui dice ma no cioè il senso prima era il cane di mia madre ma l'ha passato a me allora lei li capisce e dice ah ma stai parlando del mastino cioè di Sandor eh sì e lei qui proprio quando dice la relazione già è tossica parte già tossica quando lei pensa certo che però non cioè come dice e non piacerò mai cioè che lei dice cazzarola sono proprio tonta ma non piacerò mai a Geoffrey se sono così lenta beh in tua difesa cuora che lui parla di una persona chiamandolo cane non è che tutti quanti penserebbero subito a parli del mastino cioè perché non è molto educato Geoffrey perché però quando lei sa che lasciano sia lady che il mastino indietro dice ma siamo sicuri che è una cosa cioè che è sicuro al che Geoffrey mi si triggera perché dice certo che è sicuro nel senso io guarda ho anche questa e tira fuori la sua spada perché lui non è che fa come i fratelli di Sansa che usano le spade di legno lui già lei usa le spade quelle vere e le fa vedere la sua temutissima dente di leone che in inglese mi fa ancora più ridere di dente di leone perché Lion's Tooth mi viene proprio in mente non so perché ma il dente da latte quindi proprio un nome veramente incredibile Geoffrey e quindi diciamo qui comincia l'appuntamento di Sansa e Geoffrey e lei è molto felice perché appunto stanno andando in giro sente il profumo dei fiori sta da sola con Geoffrey a un certo punto sono andate a un Old Fast e hanno mangiato qualcosa perché appunto lui ha detto siamo il principe la sua lady quindi non ci dovete dar da mangiare e stanno anche bevendo infatti c'è Sansa che dice che ha bevuto più vino moche in tutta la sua vita perché la vuole facciuccare non ho capito poi dice mio padre cioè ci fa bere solo una un bicchiere insomma di vino e solo alle feste gli ha confessato anche lui le rimette il vino e dice ma la mia la mia sposa può bere quanto le pare they went they went more slowly after they had eaten Geoffrey sang for air as they rode his voice high and sweet and pure ah pure la serenata gli fa Sansa was a little dizzy from the wine wouldn't we be starting back she asked soon Geoffrey said the battleground is right up ahead where the river bends there was where my father killed Rhaegar Targaryen you know he smashes in his chest crunch right through the armor quindi dice dopo che hanno che hanno mangiato sono andati un po' più lenti nella loro passeggiata a cavallo e mentre cavalcavano Geoffrey ha pure cantato capito la sua voce era dolce alta e pura Sansa era probabilmente le sembrava così bella perché ha bevuto so che Geoffrey è un grande ballerino di questo si parla a un certo punto ma non lo so non può saper cantare e la vuole portare che lei a un certo punto dice beh possiamo tornare indietro però lui la vuole portare al tridente dove suo padre ha ucciso Rhaegar Dan sta praticamente giocando a fare Robert che fa finta di muovere il martello per uccidere Rhaegar e poi dice si poi c'è mio zio invece che ha ucciso il re così poi che mio padre è potuto diventare re ma poi a un certo punto dice ma che cos'è questo rumore perché sentono qualcuno e era tipo appunto rumore di tipo appunto bastoni no e Sansa giustamente si spaventa e dice beh torniamo indietro ma Geoffrey no Geoffrey deve andare a vedere quello che sta succedendo quindi lei pensia appunto dice no c'è qualcuno c'ho paura e il suo pensiero va subito a Lady perché ovviamente l'ha lasciata indietro che porca miseria mannaggia a me e Geoffrey fa sei al sicuro con me non ti preoccupare tira fuori il dentino di leone ed è pronto ad andare a vedere chi è il fellone là davanti vedono che lì sulla riva c'è Aria insieme a Maika che si stanno stanno giocando insomma a tirare di spada con i legnetti e dice che Maika era più grande di Aria ma era anche più grosso e infatti dice era anche più forte di lei Aria stava cercando di fare il suo meglio per fermare tutti gli attacchi ma comunque non riusciva a fermarli proprio tutti quindi dice che lei a un certo punto si è lanciata Aria verso Maika Maika però l'ha fermata per il bastone l'ha tirata e l'ha praticamente colpita sulle mani tanto che poi lei infatti ha urlato perché si era fatta male e ha lasciato insomma il bastone Prince Geoffrey laughed the boy looked around wide-eyed and startled and dropped his stick in the grass the girl glared at them sucking on her knuckles to take the sting out and Sansa was horrified Aria she called out incredulously go away Aria shouted back at them angry tears in her eyes what are you doing here leave a salon Geoffrey ride quando vede questa cosa al che appunto i due si girano c'era Aria che li guarda male mentre si sta tipo massaggiando la mano e Sansa invece la guardava tipo con orrore no? allora infatti la chiama e dice Aria che cazzo sta a fa e Aria dice andatevene ci fate qua lasciateci in pace allora Geoffrey si gira verso Sansa e fa ma è tua sorella e buongiorno Geoffrey ancora non abbiamo capito chi è il parente chi è tua cognata non ancora lo sappiamo she nodded blushing Geoffrey examine the boy an unganely lad with a coarse freckled face and thick red hair and who are you boy? he asked in a commanding tone that took no notice of the fact that the other was a year a year his senior Micah the boy muttered he recognized the prince and averted his eyes my lord he's the butcher's boy Sansa said he's my friend Aria said sharply you leave him alone a butcher boy who wants to be a knight is it? Geoffrey swung down from his mount sword in hand pick up your sword butcher boy he said his eyes bright with amusement let us see how good you are Micah stood there frozen with fear quindi quando ha capito che Aria era la sorella di Sansa il parente parla a Micah gli dice ma tu chi sei? e Sansa gli fa dice è il macellaio cioè sta col macellaio e Aria subito fa ma è mio amico quindi lascialo in pace e allora Geoffrey comincia insomma a canzonarlo perché fa diciamo ma quindi tu sei un macellaio che vuole essere un knight quindi scende dal suo cavallo e va verso il ragazzo insomma e Sansa dice che gli parlava anche insomma come tono di comando quasi come se Geoffrey non temesse neanche che questo ragazzino in realtà era più grande di Geoffrey perché ha un anno in più di Geoffrey a questo punto c'è Geoffrey che deve fare tutto il figo perché Geoffrey è un personaggio che deve sempre far vedere il suo potere sopra gli altri soprattutto perché è in posizione di potere e quindi dice va bene allora adesso combattiamo e allora c'è Maika che dice ma no ma me l'ha chiesto lei di combattere me l'ha chiesto lei Maika senza detto lo sapeva che sto ragazzetto stava di la verità ne era sicura però Geoffrey non voleva ascoltare anche perché avevano bevuto quindi Geoffrey era anche mezzo brillo e quindi comincio a fare allora raccogli sta spada e lui gli fa ma non è una spada è un pezzo di legno non è una spada and you are only a butcher's boy and no knight Geoffrey lift lion's tooth and laid its point on Micah's cheek below the eye as the butcher boy stood rambling that's why no that was my lady sister you were hitting do you know that a bright bud of blood blossom where its sword pressed into Micah's flesh and a slow red line tickled down the boy's cheek stop it Arya screamed she grabbed her fallen stick Sansa was afraid Arya you stay out of it I won't hurt him much Prince Geoffrey told Aryan never take his eyes off of the butcher's boy quindi dice che c'è c'è Geoffrey appunto che fa quando questo fa ma è un bastone non è una spada dice tu sei un figlio diciamo del macellaio non sei un cavaliere prende il dentino di leone e praticamente glielo posa qui a Micah e comincia diciamo a tagliarlo infatti a certo punto asce pure il sangue e dice guarda quella lì era la sorella della mia lady quella che stavi attaccando Sansa comunque si spaventa e Arya si cerca di mettersi in mezzo perché dice no basta fermati fermati e era pronta cioè c'era il bastone in mano ma Sansa aveva paura per Arya e infatti dice Arya stai ferma cioè non ti mette in mezzo cosa che hanno fatto un po' diversa nella serie quando Sansa dice ad Arya stai non ti mette in mezzo è quando ancora Geoffrey non ha fatto niente e si sta solo avvicinando e Arya si mette in mezzo e dice oh lasciaci in pace e Sansa mi ricordo con questa faccia e dico ma scusa mia che dice non ti mettere in mezzo ma non che dice oddio c'ho paura a Arya non ti mettere in mezzo no è non ti mettere in mezzo cioè hanno fatto di tutto nella serie per renderla proprio antipatica cioè nella prima serie Sansa non si può non si può guardare non è colpa di Sophie poi capirai era il suo primo incarico cioè il suo primo lavoro quindi non me la sento neanche di incolpare lei perché comunque c'è un regista quindi ti dirige lui ma lì non si vede tanto secondo me nella serie in questa scena qui non si vede tanto la preoccupazione di Sansa quanto il fatto che dice cioè come se sta appoggiando Geoffrey io almeno l'ho sempre percepita così invece qui vediamo che c'è lei ha paura in questo momento qui cioè non è che sta dicendo sì bravo Geoffrey vai cioè dice c'è 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 paura anche perché questo ha mezzo bevuto con una spada a mano può andare solo che male ma che Aria save the day perché Aria arriva e lo attacca parte arriva e colpisce Geoffrey Sansa dice che pure ha provato a scendere a fan fretta a scendere ma non c'è riuscita quindi lei colpi Aria colpisce Geoffrey dietro la testa con sto bastone e Geoffrey cade praticamente perché appunto Maika almeno è riuscito insomma a scappare a questo punto Aria cerca di colpire di nuovo Geoffrey ma Geoffrey ferma il bastone con Lion's Tooth e sta cosa qui fa cadere cioè fa rompere questo bastone e fa cadere Aria e intanto Geoffrey sta perdendo praticamente sangue da dietro la testa e i suoi occhi erano fiammati di rabbia questa cosa ci dice Sansa a questo punto Sansa urla che dice no no stop it stop it boraviu you're spoiling it but no one was listening Aria scooped up a rock and Arlet in Geoffrey's head she hit his horse instead and the blood bay reared and went galloping off after Maika stop it don't stop it Sansa screamed quindi a questo punto cioè loro stanno stanno a menà praticamente allora Sansa che faceva no basta basta ci state a rovinare tutto quanto basta che state a fa Aria mi spezza perché ha preso sta roccia e l'ha tirata proprio mirando alla testa di Geoffrey che però purtroppo si è spostato e sta pietra ha preso il cavallo di Geoffrey che infatti è partito è andato via Sansa non sa che cosa fare non sa come fermarli questi continuano a combattere anche anche Geoffrey ferisce Aria con la spada e si tipo urla urla insulti si urla insulti dice cose molto molto brutte quindi Aya sta cercando di fare del suo meglio ma a un certo punto lui la blocca tipo contro un albero Sansa non sapeva che cosa fare ci dice e che stava guardando spaventata e non sapendo che cosa fare mentre cominciava anche a piangere che ovviamente si è spaventata ma a quel punto lì sappiamo che se c'è uno Stark in difficoltà e c'è il metalupo in giro il metalupo arriva e ti fa a pezzi infatti Neimeria arriva e attacca Geoffrey grande Neimeria prende prima la spada di Geoffrey e la tira via e poi il lupo una volta che ha buttato insomma sta spada gli salta addosso e al che appunto comincia a rotolarsi Geoffrey con sto lupo eppure Aria si mette in mezzo per dire no no Neimeria vieni qua Neimeria vieni qua ovviamente il metalupo appena Aria parla molla tutto e va verso Aria e comunque l'ha morso quindi adesso cioè tutto Geoffrey è tutto sanguinante e qua è bellissimo perché avete visto che prima c'era Geoffrey che ha fatto a Maika I won't hurt him much adesso c'è Aria che si avvicina e fa she didn't hurt you much e io adoro tutto cioè vedete questa parte molto sassi molto molto irriverente che hanno gli Stark che è un peccato proprio che non l'abbiano messa nella serie perché è una delle parti più belle degli Stark Aria rispada e gliela sta appuntando contro con tutte e due le mani e mi spezza qui perché prima l'uomo vissuto con il dentino da latte là tipo mezzo piangendo no no non mi fare del male non mi fare del male che lo dico a mamma cioè capito Geoffrey Geoffrey è incredibile proprio cioè Geoffrey è veramente un pappamolle cazzo allora Sansa poi si mette in mezzo e dice lascialo stare Aria lascialo stare praticamente prende sta spada si gira e la butta dentro al fiume e poi scappa insieme insieme a Nymeria after they had gone Sansa went to print Geoffrey his eyes were close in pain his breath ragged Sansa knelt beside him Geoffrey she sobbed oh look what they did look what they did my poor prince don't be afraid I ride to the hole fast and bring help for you tenderly she reached out and brushed back his soft blonde hair his eyes snapped open and looked at her there was nothing but looting there nothing but the vilest content then go his feet at her and don't touch me a questo punto Aria è scappata Sansa si avvicina a Geoffrey che è tutto sporco di sangue e dice adesso vado a chiedere aiuto vado a chiedere aiuto non ti preoccupare e si avvicina per toccarlo ma lui si gira e dice proprio la guarda con proprio un odio viscerale proprio cioè era proprio vile si si proprio come se gli facesse quasi schifo lei e allora gli dice allora vai e non mi toccare il capitolo finisce così la cosa qua appunto interessante è che si vede quanto Sansa ci tenga la sua fantasia perché nonostante lei vede e lo riconosce che Geoffrey tipo la guarda come se la odia la guarda come se gli fa schifo non si è comportato bene però lei tiene talmente tanto alla sua fantasia del principe perfetto che la prende e la fa diventare regina e vivranno per sempre felici e contenti che lei lei è disposta a mettersi le fette di prosciutto davanti agli occhi e a non vedere che questo ragazzo qui comunque ha dei tratti un po' strani non arriverà mai a fare le cose che fa nella serie tipo appendere le donne dentro la camera e a giocarci al tiro a segno ma comunque sicuramente ha una parte molto sociopatica sicuramente appunto è un tipo di persona che tende a voler sovrastare gli altri perché può Geoffrey questo è è un bullo con il potere in un mondo in cui tu se hai potere ne hai ancora di più rispetto al mondo nostro e la base di Sansa che a me fa tanta tenerezza proprio poi in prospettiva di quello che poi succederà è che lei proprio prova in tutti i modi a cercare di credere che andrà tutto bene che il suo sogno che lei ha sin da quando è bambina si coronerà e quindi avrà questo principe incredibile che l'amerà per sempre che la tratterà benissimo perché lei non vuole vedere le cose negative che ci sono e lei questo lo fa sia con Geoffrey che con Cersei e questo sarà appunto un problema che Sansa avrà nel primo libro ma ovviamente dobbiamo anche metterci il conto che ovviamente Sansa non ha ragione di pensare male dei Lannister nel senso non sa tutto quello che noi anche come lettori sappiamo che magari appunto sono ancora più vili rispetto a quello che potrebbe potrebbe passare lei tende a giustificarli e questa cosa qui le darà un grandissimo schiaffone in faccia dobbiamo essere sinceri dunque questo capitolo di Sansa è finito siccome il primo capitolo di Sansa fatemi sapere quello che pensate del personaggio di Sansa se vi piace se non vi piace insomma fatemi sapere tutto quanto e io niente per oggi ho finito di sproloquiare ci vediamo la prossima puntata con un nuovo episodio di A Game of Topics ciao